Prego Mariaeva La cuffia è la tua Prego, bel respirone, come va Mariaeva? Ma hai guardato come se stessi detto adesso Alla sbarra in tribunale Mariaeva Sei la nostra nuova campionessa? Sì, wow, che bello Eh, te vedo Wow, che bello Fate un applauso di quelli proprio veri, veri, veri Che una signorina, guarda, meravigliosa C'hai conquistato subito C'hai conquistato subito la tua bellezza, la tenerezza, la tua dolcezza Dai Pronta? Sì Mariaeva Cosa sceglierai? Andare O sceglierai partire? Andare Ghigliottine Stavolta cosa scegli? Moto O macchina? Moto Ghigliottina Ripartiamo da macchina Terza possibilità La parola anni O la parola danni 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 Ghigliottina Film Oppure filo Filo Ghigliottina Ghigliottina Sì La quinta La quinta parola di questa sera sarà Mangia Oppure sarà Beve Mangia Ghigliottina Sì Sì Mariaeva La nostra nuova campionessa Gioca per 95.000 euro Le parole sono Andare Macchina Danni Filo Mangia Mariaeva Un minuto da adesso Per trovare la parola vincente Dai Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie, Maria. Respirone, ne comprimiamo, bravo. Come risalissimo dall'apnea, un po' è anche quello. Ci possiamo levare la cuffia. Sì. Non voglio sapere della parola, però ve lo chiedo a te. Come va? Come ti senti? Eh, boh, bene, dai, sì. Emozione è? Eh, non lo so, meglio che non ci penso, se no, se no, potrebbe... Sei meravigliosa, sei meravigliosa. Boh, speriamo, non so. Mi è venuta, cioè mi è venuta subito una parola e mi sono bloccata su quella e ho provato a pensarne altre, ho scritto quella che avevo pensato e, boh, vediamo. Non so, sì. Cioè, pensai l'altra sera, ma questo è così anche per dirvi che c'è, appunto, si crea una famiglia, un ambiente, dove... Mi ha detto, Flavio, ma quindi devo tornare? Perché era arrivato al trial e l'ho detto sì. Dice, ma io devo vendere il pane al forno, a casa. Dette, beh, poi, eh, tu hai le torri di corsa, perché neanche a saperlo, poi uno deve tornare a giocare. Hai visto mai? Si diventa campionesse? E tu lo sei diventato, hai visto mai? Stiamo inseguendo 95 mila euro? Caspita. Eh, sento il respiro da qua. Bene, allora, vale 95 mila euro la parola che è contenuta in questa busta. Allora, voi non le vedete inquadrate qua dietro? Le mie meravigliose signore si storcono come delle contorsioniste per vedere in anteprima. Ma io mi oppongo. No, col corpo, non è che mi oppongo, che non vuoi. Il corpicione. 95 mila euro, andare, macchina, danni, filo, mangia, il respiro di Marieva sale, anche l'attenzione perché tutti noi ti fiamo per lei. Marieva, hai scritto... Fuoco. Sì, fuoco. È la prima parola che mi è venuta in mente. Quando ho visto mangia, ho detto, beh, mangia fuoco, di Pinocchio. Poi andare a fuoco e poi le altre, ma non so, la macchina del fuoco, qualche filo speciale. I danni? Beh, il fuoco fa danni, no? Se brucia. E il filo, non so, il filo del fuoco, non lo so. Questa è quella un po' più... che non riusciva ad abbinare bene. Allora, mangia fuoco è perfetto. Pinocchio, ok. I danni del fuoco, certo che può esserci amico, ma, appunto, gestito male fa danni indicibili. Andare a fuoco, perfetto. Nel cinema, ogni tanto mi è capitato, da far manovrare a dei grandi esperti del settore, c'è la macchina del fuoco, per gli effetti. Nei film, quindi andare a fuoco, la macchina del fuoco, i danni del fuoco, mangia fuoco, filo? Eh, filo, non so, esisterà un filo del fuoco, un fuoco di filo, non lo so. Non lo so. Tesoro, stiamo giocando per 95.000 euro. Eh. E io, che mi regalo sempre il brivido di non vedere cosa state scrivendo, per poter, appunto, come le amiche e gli amici a casa giocare insieme, quando poi vado a girare la vostra parola, prima vado a scoprire cosa c'è nella busta, e appunto, e scopro qual è la parola vincente. Poi girare la vostra, per me è come in una partita dei film americani del poker, e quando ho visto fu, ho detto la bambina la prima sera, arriva, prova, diventa campionessa, e la prima sera appunto che diventa campionessa vince 95.000 euro. Eh, magari. E ho visto fu. E fu. E la O finale. Mangia fuoco, i danni del fuoco, la macchina del fuoco, andare a fuoco, ok. Ma infatti con filo non troviamo niente di plausibile. Non c'è un filo di fuoco. Ma per te che ami, anche se non ami troppo Puccini, hai mai detto che canti più altri autori. Nella madama Butterfly, un bel di vedremo cosa, levarsi, un filo. Dal fuoco viene un filo, ma appunto non è un filo di fuoco. Si leverà un filo di fumo. Ah, e quindi è andato tutto in fumo. Perfetto. Ah, ah. La macchina. E quindi andare in fumo proprio non poteva purtroppo essere più calzante per noi. La macchina del fumo, che è un'altra macchina per gli effetti, anche in discoteca, la macchina del fumo, alle volte anche in televisione, grandi effetti, e poi arriva il cantante. I danni del fumo, non dobbiamo fumare, qualche volta ci scappa per il nervosismo, ma i danni del fumo, lo sapete, sono indicibili. Ci avete regalato, piccola parentesi, avete fatto delle donazioni straordinarie, applauso perché l'AIRC ancora ci ringrazia, ma io ringrazio voi a nome di tutti. Perché voi avete fatto un cacolavoro di generosità, grazie. La ricerca contro il cancro, i danni del fumo, non bisogna fumare. Un bel di vedremo, levarsi un filo di fumo, appunto un filo di fumo dal fuoco. Certo che c'è mangiafuoco, ma c'è anche la candela mangiafumo. O l'aspiratore mangiafumo. E soprattutto l'hai detto tu, dice andato tutto in fumo. E la parola questa sera è, ahimè, fumo.